Benvenuti a questa seconda puntata dell'intervista. Sentirete magari qualche rumore, ma abbiamo deciso di utilizzare come luogo per registrare questa puntata un bar, ristorante molto elegante della città di Catanzaro, nel centro storico del capoluogo, il Bar Imperiale. Un bar che ha una grande storia. Filippo, diciamolo subito, è il nostro interesse anche con questa trasmissione fare da supporto comunque alle cose positive che in Calabria si fanno avanti? Assolutamente. Questo è un bar storico, hai fatto bene a sottolinearlo. È stato rimodernato nei mesi scorsi ed è diventato un punto di riferimento, perché bisogna segnalare le cose positive che ci sono, che alcuni privati si sforzano di fare e il Bar Imperiale in cui stiamo registrando nel centro storico risale, lo voglio ricordare, ai tempi dell'Unità d'Italia. Quindi di questo stiamo parlando. È un esempio di quello che tu stavi dicendo. Quindi molto probabilmente in questo salottino nel corso dei decenni chissà quante personalità anche di ottimo livello sono state prima di noi a sosteggiare un caffè e a scambiare quattro chiacchiere. Mio compagno di viaggio in questa avventura, Filippo Veltri, volto noto anche televisivo, scrittore, giornalista, editorialista e soprattutto un pensatore di politiche. Io direi quasi un politologo, ma forse non so se a lui piace questa definizione. Non esageriamo. Abbiamo poi invitato uno più giovane, collega più giovane di noi, Francesco Ranieri, che è una delle colonne della Gazzetta del Sud, lavora nella redazione di Catanzaro. Francesco, grazie per essere qui con noi. Tu scrivi molto di politica, vero? Sì, mi occupo prevalentemente della politica cittadina di Catanzaro, provincia, un occhio di riguardo anche alla regione. Viaggiamo in tandem con i colleghi, insomma, è un lavoro di squadra come Prassi, il lavoro di squadra per il giornalismo. È una fase molto effervescente questa, quindi ricca di spunti, ricca di tante peculiarità anche che ci danno la stura per molti ragionamenti. Senti, Francesco, i politici cosa fanno? Vi chiamano? Siete voi che li chiamate? Vi chiedono di limare le cose che scrivete? Qual è il rapporto che avete con i politici, che so, sia parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri comunali? La politica è cambiata nel corso degli anni. Oggi credo che un cronista di politica come me possa vedere le cose in maniera diversa rispetto a come le vedeva un mio collega 20 anni fa. Diciamo che c'è un rapporto abbastanza intenso con i politici. Che loro chiamino non è facile. Oggi si viaggia molto sui comunicati, però devo dire che c'è anche una grande disponibilità nell'instaurare un colloquio e un rapporto diretto anche con il giornalista. Che qualcuno arrivi a chiedere di limare finora non è successo. Credo che un po' tutti abbiano anche l'accortezza di evitare determinati atteggiamenti, se vogliamo. Grazie Francesco. Ritorneremo su quella che è la tua attività quotidiana come redattore e cronista della Gazzetta del Sud. Filippo, prendiamo spunto in questa trasmissione da un tuo recente libro. Tu nel tempo hai fatto sempre il giornalista in prima linea, però ti sei voluto dedicare alla saggistica, prevalentemente di argomento politico, storico-politico. L'ultima tua creatura è stato appunto questo saggio. Quando c'era la politica, ora il nostro operatore Vittorio Vetrano farà in modo di far vedere la copertina. Un'altra nostra volontà è quella di promuovere comunque l'editoria libraria che vive un momento ovviamente difficile. Filippo, perché ti è venuto in mente di scrivere quando c'era la politica? Domanda da mille punti. Mi è venuto in mente per la verità, alla fine, proprio un anno fa di questi tempi, in occasione delle ultime elezioni regionali, perché lo svolgimento delle ultime elezioni regionali, quando votò, se ben lo ricordate tutti quanti, anche i telespettatori, credo, votò meno del 50% degli aventi diritto, segnalò una cosa che per me era molto grave, cioè dire un distacco dei cittadini dalla politica che andava analizzato, andava presi in esame, del perché c'era un crollo così evidente che seguiva altri crolli, fra l'altro, di partecipazione al voto. Ora è evidente che la partecipazione al voto è semplicemente un segnale del distacco della politica, però quando c'era la politica vuole indicare che c'è stato uno scadimento oggettivo della politica in sé e quindi di quello che essa dovrebbe rappresentare e che non rappresenta più. Per pura combinazione questo libro è poi uscito prima delle elezioni politiche della scorsa estate, è stata autunno, 25 settembre era da poco iniziato l'autunno e quindi sta avendo, al di là di quello che ho potuto scrivere io, un grande successo proprio perché la gente si identifica in questo titolo e in quello che c'è in questo libro su un problema, caro Massimo, che è centrale, di cui fra l'altro noi ci occupiamo spesso, che è quello del rapporto fra i cittadini, politica e istituzione. Senti Filippo, relativamente all'Italia un grosso salto di qualità avviene con la caduta del muro di Berlino ma soprattutto con Tangentopoli. Nel 92 tutta una vecchia classe politica tranne rare occasioni viene messa in discussione, però purtroppo forse allora si è corso il rischio, addirittura siamo andati al di là del rischio, di buttare sia l'acqua sporca che il bambino, cioè anche la politica oltre che qualche politica che aveva sbagliato. Sì, questa espressione del bambino e dell'acqua sporca è vero, io non so dire se era più l'acqua sporca che i bambini che furono buttati, certo ci fu un'operazione di cui la politica innanzitutto porta interamente la responsabilità, cioè a dire perché un certo tipo di politica venne messa come dire nell'angolo perché veniva sviluppato un rapporto con l'imprenditoria pubblica e privata, soprattutto pubblica e lì stava il grande problema che era un rapporto malsano. Dopodiché è di tutto evidente, ritorniamo ai giorni nostri Massimo, che quando tu non riesci ad espellere da sola il male, chi interviene? E interviene nel caso di specie la magistratura, per forza di cose è inesatto l'intervento, per forza di cose coglie in maniera indiscriminata, è giusto? Non è giusto. Quello che è avvenuto però politicamente è quello che tu hai detto, cioè a dire che a un certo punto con Tangentopoli scompaiono i partiti, scompaiono i partiti principali di governo, non scompare il PC che sarebbe scomparso per altri motivi, non direttamente collegato a Tangentopoli e da lì è iniziato, è proseguito uno scadimento della politica che era obiettivamente ancora prima del 91, ma che l'ha esplose e che ci ha portato ai giorni nostri, perché se noi ragioniamo su quello che c'è oggi nel panorama politico nazionale, la parola partita è praticamente sparita da tutti. Filippo, hai fatto un passaggio secondo me interessante, ora ascolteremo Francesco, su questo discorso del ruolo della magistratura. Io come te ho preso sempre posizioni molto forti e diretti a sostegno dell'intervento della magistratura, perché come te ritengo che sia stata la politica a non sapersi rigenerare, sia stata la politica a non saper filtrare prima dell'intervento della magistratura. Noi qui lo sappiamo, in Calabria abbiamo tanti magistrati importanti che svolgono inchieste anche decisive, nel caso di Catanzaro il procuratore della Repubblica e Nicola Gratteri, che non ha bisogno di presentazioni. Io perché penso che il loro ruolo, il ruolo di questi magistrati sia stato fondamentale? Perché hanno anche indirettamente supplito a quella che è una mancanza forte della politica nella capacità di rigenerarsi e di selezionare prima dell'intervento della magistratura. A questo proposito Francesco, tu che nel tuo lavoro quotidiano sei costretto diciamo sempre a intersecare questi due aspetti, inchieste alla magistratura e politica, cosa pensi? Ma credo che emerga un limite della politica effettivamente, hai detto bene, una politica che non è in grado di autorigenerarsi, quindi di fare anche una pulizia al proprio interno senza che arrivi una forza dall'esterno, in questo caso la magistratura, a delineare, quantomeno a provare a delineare perché poi si sa che quando parte un'inchiesta non sempre, diciamo, la partenza rappresenta il punto d'arrivo poi di quel percorso. E dopo Tangentopoli si arriva al 1993 con l'arrivo alla presidenza del Consiglio di Carlo Azzeglio Ciampi, quindi il primo tecnico della storia della Repubblica, dopodiché c'è il passaggio al 1994, l'era di Berlusconi possiamo dire in questo modo e soprattutto l'era dell'antipolitica come professione, il politico come professione viene visto, viene rappresentato in maniera negativa, un aspetto, una conclusione che a mio avviso non è corretta, ma da lì si mettono le basi e le radici per arrivare poi ai giorni nostri, come diceva bene Filippo, si mettono le radici per il qualunquismo e per il populismo, qualunquismo che credo sia anche un po' l'ideologia, se vogliamo, del populismo alla fine dei conti. Grazie Francesco. Filippo, tu giustamente quando abbiamo fatto questo salto indietro a Tangentopoli e alla caduta del muro di Berlino hai detto andiamo ai giorni nostri, ma la possiamo rintracciare una similitudine tra, vedi un pallino, mi interesso molto di storia, io credo che la politica abbia un ritardo, proprio forse perché sono rari ormai i grandi pensatori, io ho riconosciuto sempre ad esempio a Massimo D'Alema rispetto alle nuove generazioni di essere un grande pensatore, poi potrà essere antipatico, non antipatico, simpatico. Il ritardo della politica che dicevi tu parte dalla caduta del muro di Berlino, cioè parte dall'incapacità di capire che il mondo sta cambiando, la similitudine con l'oggi, c'è un ritardo della politica a capire che il mondo sta cambiando? Ma assolutamente c'è, ma io riprendo anche le cose che diceva Francesco per farti notare un dato, lui ha citato Ciampi, se noi riflettiamo un attimo, anche i presidenti del Consiglio non propriamente tecnici che abbiamo avuto, e cioè Ciampi, Monti e Draghi Perù, sono stati dei personaggi che non vengono dalla politica, Berlusconi non veniva dalla politica, Romano Prodi non veniva dai partiti, cioè stiamo parlando che abbiamo alle nostre spalle 30 anni in cui quella catastrofe, quella deriva ha cancellato i partiti e se li ha cancellati, li ha cancellati anche nella incapacità soprattutto, che è quella che noi stiamo fra l'altro analizzando Beni e te che lo voglio annunciare a Vito Calabria, presto sarà in libreria un volume che tratterà questo, di dove va la sinistra. Tu hai citato Massimo D'Alema, Dio ce ne guardi, se citiamo ancora Massimo D'Alema capace che ci mandano i carabinieri, però è l'unico che aveva individuato una linea, un percorso, io vado oltre, questa volta mandano carabinieri e polizia assieme, ho rintracciato un editoriale sull'avanti di Bettino Craxi del 1979, sì signori, Bettino Craxi, 1979, quindi 12-13 anni prima di Tangentopo, in cui egli, non lo posso leggere tutto perché è lungo, ne ho pigliato soltanto un tratto, in cui egli a un certo punto aveva capito che c'era un sistema politico che era corroso, parla addirittura di un cretinismo parlamentare e soprattutto segnala un problema che noi abbiamo oggi davanti ai nostri occhi, cioè a dire di una crisi dell'istituzione e della democrazia. La sinistra, sia i signori Craxi, sia il signore Berlinguerre, quando potevano percorrere una strada che era la strada della socialdemocrazia europea, Massimo, perché questo è il punto, nel momento in cui la socialdemocrazia europea era forte, era forte in Francia, era forte in Germania, era forte nei paesi nordici, in Spagna, in Portogallo, a un certo punto l'uno si occupò del compromesso storico, l'altro si occupava dei rapporti con la democrazia cristiana e di stringere un rapporto per limitare il potere della balena bianca, come veniva chiamata, nessuno dei due all'epoca pensò che quella era l'unica strada. Oggi nel 2022 ne paghiamo le conseguenze. Grazie Filippo per questa analisi in cui mi riconosco. Francesco, veniamo alla realtà locale. Tu stai scrivendo molto delle elezioni amministrative che ci sono state, dell'elezione del nuovo sindaco, di queste prime settimane di attività. Nella precedente puntata io e Filippo abbiamo proprio voluto intervistare il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, chiedendo a Fiorita di occuparsi anche molto di politica, nel senso di lanciare questo messaggio. Le gravi emergenze che esistono ed anche il problema fondamentale del ruolo che è una città come Catanzaro, che anche è capoluogo di regione, deve avere nei prossimi 20-50 anni non può prescindere da un'analisi politica profonda, prima ancora di calare le mani in quella che è l'amministrazione quotidiana. Cosa ne pensi? Certo, effettivamente Catanzaro ha necessità di recuperare il proprio ruolo di capoluogo di regione perché negli anni è rimasto schiacciato tra Reggio Calabria e Cosenza. Ragionando sul discorso del regionalismo, sì Catanzaro aver avuto il ruolo di capoluogo di regione però poi pian piano non è riuscito a sviluppare questa sua posizione, effettivamente e oggi ne vediamo le conseguenze. La nuova amministrazione ha quindi credo un duplice lavoro da fare, un discorso politico da intavolare anche con il livello nazionale, proprio per accrescere le proprie relazioni con quella che è la sfera di governo, la sfera del Parlamento, proprio per consolidare dei rapporti che possano tornare utili alla città e per poter sviluppare delle politiche importanti, ma deve anche riuscire a capovolgere questo equilibrio che in questo momento vede Catanzaro debole in Calabria. Se ne è parlato molto in campagna elettorale di questo declino del capoluogo, sono state proposte tante ricette, però qui non si tratta soltanto, come dicevi tu effettivamente, di andare solo ad amministrare, ma si tratta adesso di andare intanto a capire in quale contesto ci si sta muovendo. Bisogna ricostruire tutto quello che è stato fatto fino ad ora, anche perché oggi amministrare un ente locale, per quanto importante come può essere una città come Catanzaro, è un'impresa proibitiva, stiamo vedendo le grandissime difficoltà di bilancio in cui versano gli enti locali, probabilmente Catanzaro avrà un bilancio molto ingessato, definiamolo così, perché c'è un disavanzo tecnico che deve essere recuperato, per il quale sì ci sono già degli stanziamenti, ma comunque non consente dei margini operativi. Abbiamo visto di recente la polemica ad esempio sul teatro Politeama, per cui per la cui stagione concertistica si sono dovuti trovare dei fondi, si è innescata una polemica anche politica che non ha portato poi a molto, effettivamente, è rimasta lì. Però rappresenta un po' il segnale, la cartina di Tornasole della situazione di una città che deve recuperare e le cui prospettive anche in vista di, non so, ragioniamo proprio sul bilancio, si parla di un incremento enorme ad esempio della spesa energetica per gli edifici pubblici e comunali, come si farà fronte a queste spese? Quindi bisogna credo lanciare una opa sulla politica in questo momento, Fiorita penso che debba lanciare un'opa sulla politica. Ecco, e chiederemo poi al sindaco Nicola Fiorita nei prossimi giorni di rispondere a questa sollecitazione. Filippo, la politica deve partire innanzitutto dal recuperare un rapporto con la società civile e con i cittadini. Sarà stato per Tangentopoli, sarà stato per questa deriva populista o demagogica. Io non so quanti cittadini abbiano un concetto positivo di politica, eppure nella storia dell'umanità i grandi salti in avanti da per i che in poi si sono fatti quando è stata la politica a dettare la linea. La politica nasce da un retroterra ideale, culturale, e la politica è pensiero e ragionamento. Rispetto a questo, ai tantissimi telespettatori che ci ascoltano, e perché proprio hai scritto questo libro intitolato Quando c'era la politica, che significa anche quando c'era la politica tra virgolette si stava meglio. Vogliamo dirlo che la politica non è una cosa sporca e che anzi è una virtù che può avere una democrazia e una società civile? Sì, nel tutto vi chiedo scusa dello squillo del telefonino che era non in silenzio. Mi interessa capire una cosa Massimo, il tipo di audience che avranno queste trasmissioni in cui io e te ci stiamo, come dire, scapigliando sui problemi della politica. Perché la tua domanda è assolutamente pertinente. I cittadini, i telespettatori, chi ci segue, sono interessati a che la politica cambi o, la dico brutalmente, o non gliene frega proprio nulla. Perché questo è il sottile crinale nel quale noi... Ma se non gliene frega nulla, lo capiscono che pagano un prezzo, questo mi chiedo. Ecco, secondo me al momento non c'è una piena comprensione del fatto che la non partecipazione ad esempio al voto, la non partecipazione ad un dibattito pubblico quale che sia, che si possa svolgere anche nelle famiglie, anche dentro le famiglie, sia poi alla fine un problema loro, a discapito loro. Io secondo me questa percezione non c'è perché il trascorso che abbiamo alle nostre spalle, per i motivi storici che tu hai citato prima e che abbiamo citato io e Francesco prima, e anche per le parole d'ordine che sono state stillate nel passato recentissimo, anche da parte di forze politiche che oggi siedono e continuano a sedere nel Parlamento italiano, sulla politica sporca, sul fatto che uno vale uno, sul punto nodale anche che ha portato poi allo scadimento nei fatti, io penso alla modifica della legge sul finanziamento dei partiti, ma poi da là è partita, che causa ed effetto assieme, causa ed effetto assieme, di un allontanamento dei cittadini. Alla tua domanda se i cittadini sono consapevoli di questo, francamente anche nel mio libro lo scrivo, ritengo che ancora non ci sia una piena consapevolezza che non partecipare ad un dibattito pubblico e non partecipare soprattutto alle sorti della politica significa non partecipare alle sorti dell'istituzione, alla fine non partecipare alle sorti, aggravare la democrazia. Io su questo, scusami Massimo, la democrazia, cioè viene intaccata in questo modo, quindi goccia dopo goccia, in cui magari noi non ce ne accorgiamo neanche, ma viene intaccata la democrazia, che significa una cosa molto seria, significa che poi alla fine vincono le teocrazie. Sì, era proprio questo che ti volevo chiedere di sottolineare ancora meglio, la crisi della politica apre lo spazio poi a che cosa? A centri di potere che magari non conosciamo, cioè che addirittura non riusciamo neanche ad individuare, alle lobby, al ruolo delle grandi multinazionali. Alle mafie Massimo Burre. Alle mafie, fai benissimo a dirlo, alle mafie che comprano tutto, lo dice spesso Gratteri, oggi l'andrangheta che molto probabilmente è la mafia più potente al mondo non ha tanto il problema di fare nuovi soldi, ma di riciclare i soldi che ha già fatto e nel riciclarli ha bisogno anche di infilarsi nei gagli degli apparati democratici deboli e che la subiscono. Ecco Filippo, la mancanza di politica significa anche questo. Significa soprattutto questo, in questo agile libro che il buon Vittorio sta inquadrando, uno dei capitoli è dedicato alla crisi della politica fatta a contraltare e a contrapunto il ruolo sempre predominante, in Calabria si chiama andrangheta e la continueremo a chiamare andrangheta, altrove si chiama cosa no, diciamo delle mafie in generale, perché è evidente che all'interno di un testuto democratico fragile, ma qua non ci vuole una grande scienza, ci vuole semplicemente come dire la consapevolezza, la consapevolezza in un sistema democratico fragile, i poteri occulti, a maggior ragione i poteri criminali che mantengono come dire l'arma sotto il tavolo hanno la prevalenza, ora se non ci si rende conto che questo passa attraverso goccia, torno a dirlo, goccia dopo goccia, magari in un modo in cui l'opinione pubblica, i cittadini, noi stessi facciamo fatica a rendercene conto, la crisi dei partiti e poi della politica può portare a questo, torno a ripetere quello che è scritto una persona che poi non ha avuto una grande stampa e un grande riscontro per i noti fatti di Tangentopoli, nel 1979 Crax lo diceva, attenzione che poi viene indaccata la democrazia e le istituzioni. Senti Francesco, tu te ne occupi spesso nelle tue cronache, nei tuoi servizi su Gazzetta del Sud, quanto è pericolosa l'Andrangheta nell'inquinare il sistema politico? Credo che la risposta sia già insita nel numero di comuni sciolti per mafia, in questo caso per Andrangheta dovremmo dire, per infiltrazioni mafiose, andiamo tu curi in Calabria, la nostra regione purtroppo ha uno dei numeri più elevati, se non il più elevato a livello nazionale, un triste primato che credo affondi alle radici nei primi anni 90, non appena venne istituita questa possibilità. E la criminalità ha tanto più margine operativo laddove la politica è più debole, laddove la politica è debole e dove non c'è un'opinione pubblica forte, perché credo che poi anche i cittadini debbano avere un ruolo di sentinella se vogliamo. C'è un aspetto interessante che Filippo evidenzia nel libro, che è legato anche alla sparizione ad esempio dei circoli, delle sezioni, i partiti non ci sono più sul territorio. E questo credo che va a influire ovviamente sull'astensionismo, va a influire sull'allontanamento delle persone della politica, ma va ad influire anche sul sostegno e sulla forza che la politica può avere oggi di fronte a fenomeni di infiltrazioni che siano di indrangheta, che siano di logge deviate o altri poteri. Il potere diventa cioè permeabile a un contropotere che lo fa suo. E noi vediamo purtroppo tristemente che questo va ad influire anche sulle prospettive di sviluppo, perché uno sviluppo che non è deciso dalla politica, quindi manca di una prospettiva ampia per la collettività, finisce per essere uno sviluppo appunto, quando c'è l'infiltrazione mafiosa che va a beneficio di pochi, la cittadinanza non può che finisce per restare nell'impoverimento. Grazie Francesco su quest'analisi che meriterebbe delle puntate specifiche. Filippo, il tempo a nostra disposizione è finito, un'ultima battuta. Hai ragione, ci siamo assunti un rischio importante di costruire una trasmissione, io lo voglio dire, che apparentemente può sembrare fuori moda, cioè una trasmissione in cui si discute, si ragiona, non facciamo spettacolo, non diciamo parolacce, non litighiamo o non facciamo finta di litigare, cioè non partecipiamo a quel circo mediatico che alimenta poi i fenomeni demagogici e populistici. Saremo sconfitti? Vedremo. Riusciremo ad avere ragione? Tu che ne pensi? Riusciremo ad avere ragione, altrimenti non saremmo qui, non continueremo a fare quello che facciamo al di là delle trasmissioni, cioè impegnarci in una comprensione possibile in una successiva scrittura sia sui giornali che come ho detto sull'editoria ci stiamo sforzando di fare. Non è un afflato di positivismo senza radici, è che io credo a un... insomma scava scava vecchia talpa, alla fine poi la talpa emerge. Grazie Filippo Veltri, collega giornalista, scrittore, editorialista che mi sta accompagnando in questa nuova avventura. Grazie a Francesco Ranieri, collega giornalista della Gazzetta del Sud. Questi colleghi che stanno in trincea fanno un lavoro, credetemi, difficile. Io l'ho fatto per tanti anni, soprattutto nelle agenzie, nei giornali quotidiani. Il lavoro è molto stressante, molto difficile e richiede grande preparazione e anche grande attenzione. Grazie per averci seguito. La prossima settimana abbiamo in animo di intervistare uno dei parlamentari calabresi. Ve ne daremo notizia, vi daremo aggiornamenti anche non solo sul nostro telegiornale ma anche su TG Cal24. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.